Circa il 44% dice che ha peggiorato il paese, poi c'è una parte di italiani che dice che lo ha migliorato e una parte che ha cambiato poco. Quindi sommando quella percentuale di italiani che dice che lo ha cambiato poco e quella che dice che lo ha migliorato, arriviamo alla maggioranza. E quindi comunque la maggioranza degli italiani pensa che ha cambiato poco. Ridete, tanto voglio dire, dall'inizio della puntata, no? Ma è chiaro da che parte state? Cioè lei dice che è cambiato poco, è migliorato, mi mettiamo insieme. Io cerco di leggere le cose con una certa obiettività, magari non sempre ci riesco, perché a differenza vostra non ritengo di essere infallibile. Quindi qualche volta posso sbagliarmi, però tendo a vedere questo. Per leggere i sondaggi, però mi correga se sbaglio, circa il 44% dice che ha peggiorato il paese, poi c'è una parte di italiani che dice che lo ha migliorato e una parte che ha cambiato poco. Quindi sommando quella percentuale di italiani che dice che lo ha cambiato poco e quella che dice che lo ha migliorato, arriviamo alla maggioranza. E quindi comunque la maggioranza degli italiani pensa che ha cambiato poco. Ridete, tanto voglio dire, dall'inizio della puntata, no? Ma è chiaro da che parte state. Cioè lei dice che è cambiato poco, è migliorato, mi mettiamo insieme. Io cerco di leggere le cose con una certa obiettività, magari non sempre ci riesco, perché a differenza vostra non ritengo di essere infallibile. Sì, nei freddi otto insieme, ma che bello, pure dentro al naso c'è l'uccello, ti sei chiamata a tutti, ma che felicità, zio Panello, nonno Pippo e anche papà, e Marino Sumo! Candy, oh Candy, ormai c'hai il puscio sfondato, l'intestino a pezzi e l'esofago decapitato. Candy, oh Candy, prendi trenta cazzi a botta, però dei cazzi sette dicono che sei la migliorta. Bella Candy! Non ci sono